Dopo tanto allenamento, dopo tanti sforzi, ero là. Sapevo di potercela fare e aspettavo solo di sentire lo sparo. La partenza è arrivata in un attimo, come un fulmine. È stato come volare. Ho pensato, ehi, sta funzionando. Ho preso velocità e per la prima volta ho sentito le voci del pubblico. Tutto era sospeso e poi sono arrivato al traguardo ed è stato bellissimo.